Ciao ragazzi, sono Pingu e benvenuti qui in questo mio nuovo video oggi siamo qui con le parate più impossibili e assurde nel calcio io spero che questo video non me lo blocchino visto che ho già registrato una tipologia di questo tipo e me l'hanno bloccato per mille tipologie copyright varie quindi mannaggia voi quindi direi di non perdere altro tempo e iniziare immediatamente altrimenti mi arrabbio però una cosa vi ricordo di fare cioè lasciare un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché se non arriviamo a 50 iscritti entro capodanno io giuro che vi vengo a cercare e il prossimo anno se andate a scuola poi che state guardando questo video verrete bocciati, se andate al lavoro verrete licenziati quindi a voi vi comprerebbe iscrivervi, vero? Vai! cresciamo insieme e mo'gionna mia ci cagliamo sotto in un horror super speciale a fine anno dai! andiamo eccoci qua via! solita pubblicità ok wow! un angolino di Gulaxi gran parata wow! un ciccione, questa me la ricordo su Benzema chi era? non sono riuscito a capire chi era wow! che parata trap gran parata wow! di sicuro vi metterò una musica mio perché mi daranno copiere di sicuro qui quindi gran parata di Starshagen wow! Chesney scrivete nei commenti se volete wow! che parata le migliori parate del calcio italiano che ce ne sono tante della serie A mi raccomando come il volato Courtois come l'ha presa Radetzky miracoloso o spina con la testa o black ma che bello mandai wow! bravo Roundsdale Radetzky a me piace tanto come portiera wow! cavolo! contro tempo bella come la parata a due centimetri l'ha presa magico wow! prenda il volo spina ancora lui bello no allison come l'ha presa qua bello lì è il mio amico bonu gran miracolo Mendy bello che bruttore da passaggio sono rischiato bello curtuato è andato a prenderla Mendy miracolo ancora di bonu grande bonu bello non male non male non male qua è stato bravissimo è stato vicinissimo wow colpo di Reni ok bella non è andato giù l'ha tenuta la o black rischiando ma l'ha tenuta lì bello uh uh con la falange falangetta e falangina varano vicino al gol col mignolo del piede questo è il mignolo del piede chiaramente questo è col pollice bello bello uh cavolo bello 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 uh con la mano ambigua come è parata questa però bella me l'ha imparata anche questa uh si sono stra raffreddato ancora ragazzi bello bravo sui piedi bravo orui patricio orui patrizio non me lo chiamano certi uh bello la combination è lui patricio che culo mi piace tantissimo come portiere veramente veramente forte ma è sempre un patricio niente è un patricio ma don no si no non l'ho capita cosa sta succedendo cosa strana in questa compilation ok gran parata bello con le unghie magic mic magnum è già magnum ma chi ho fatto a pararla qua un po' centrato chapeau mamma mia ragazzi vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un like un commento iscrivetevi al canale altrimenti non arrivate a Natale seguitemi qui o qui dovrebbe essere di qua Instagram e qui Youtube quindi appunto iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo video che non so quando non so come e non so perché ma l'importante è soltanto dire esatto e se non ti iscrivi ti vengo a cercare e ti picchio con le pastiglie ciao